E' stati svelati i nomi per la 48esima edizione del premio Acquistoria, i premi azioni si svolgeranno il 17 ottobre al Teatro Ariston di Acquiterme. Sentiamo in questo esercizio di Bruno Mattana chi sarà a salire sul palco. Le giurie del premio Acquistoria riunite sia ad Acquiterme hanno designato i vincitori della 48esima edizione del premio, uno dei più importanti riconoscimenti europei nell'ambito della storiografia scientifica divulgativa, del romanzo storico, del cinema e della televisione, ottenendo un importante rilancio scientifico-culturale ed una grande visibilità internazionale. Pienamente soddisfatto dei risultati anche per questa edizione, l'incaricato comunale responsabile esecutivo dell'organizzazione, il dottor Carlo Sburlati. Il numero delle opere partecipanti, ha sottolineato Sburlati, è stato quest'anno di 170, a fronte di una media di circa 25-30 opere delle prime 40 edizioni. L'organizzazione ha comunicato i nomi e le opere dei vincitori nelle rispettive sezioni. Sono Franco Cardini con il volume L'appetito dell'imperatore, Storie e sapori segreti della storia, edito da Mondadori. Paolo Isotta con La virtù dell'elefante, la musica, i libri, gli amici e San Gennaro, edito da Marsiglio. Questi per la sezione divulgativa. Antonio De Rossi con il volume La costruzione delle Alpi, immagini e scenari del pittoresco alpino, di Donzelli, editore, che si è giudicato il premio per la sezione storico-scientifica, mentre Lice Giacquinto è stata premiata nella sezione Romanzo storico per il volume La briganta e lo sparviero, Marsiglio, editore. Sono stati anche indicati i personaggi che riceveranno il premio riservato ai testimoni del tempo e il premio alla carriera. Sono Dario Balantini, Pierangelo Buttafuoco, Italo Cucci, Maria Rita Parsi, Antonio Patrelli. La manifestazione di consegna si svolgerà ancora al Teatro Ariston, sabato 17 ottobre, a partire dalle 17.15. E sarà condotta da Mauro Mazza, ex direttore di Rai 1 e Tg2. Grazie. Grazie. Grazie.